Tante borde in battuta, Zaitsev a mano aperta per il primo tocco, scatta Giannelli dalla parte opposta, Urnauta ancora una volta contro il muro a tre, la copertura di Trento, Lanza che spedisce il pallone di là, De Cecco prova un primo tempo molto difficile con Podrasianine, ci può riprovare adesso, non lo fa, serve invece Zaitsev murato a sua volta, c'è Bari, palla alta, De Cecco ad una mano, spettacolo, muro a zero per Adanasiewicz che va a segno. E questo è veramente il numero, uno dei tanti numeri che sa fare De Cecco, andiamo a rigustarcelo ad una mano, anche in equilibrio precario, un'alzata dietro perfetta per Adanasiewicz.